Non penso che tu sia preoccupato per il tuffo, no? Per il tuffo no, per tutte le altre sfide che ci saranno da vivere in questo periodo un po' sì, onestamente. Le scopriremo assieme. So che tu sei amante degli animali, spero anche degli animali umani della specie dei naufraghi. È una specie particolare. Ci proviamo in tutti i modi. Lascia le cuffie e gettati! Sì. Grazie.